Fa riemergere dall'oblio i cosiddetti musei cancellati e questo l'imperativo delle giornate nazionali dei musei ecclesiastici italiani, giunte quest'anno alla terza edizione e che vedono tra i protagonisti, unico in tutta la campagna, il Museo Diocesano di Teggiano. Nel primo weekend di marzo le porte della collezione artistica e religiosa tegianese saranno aperte gratuitamente a tutti i visitatori per far conoscere ed ammirare i tesori d'arte racchiusi in questo museo, per alcuni tratti ancora sconosciuto. Il museo, gestito dalla cooperativa Paradosis, darà la possibilità di visitare la ricca collezione religiosa con le nuove e recenti acquisizioni artistiche, tra cui la pala mariana di Giovanni De Luca del 1577, da poco restaurata, e la croce argente Adipolla della fine del Settecento. La visita al museo, che coincide con la festa della donna, offre notevoli spunti per individuare le matrici dell'arte antica legata alla figura femminile, alla scoperta della ricca iconografia legata alla rappresentazione della donna, dalla figurazione pittorica di Maria alla scultura di numerose sante e martiri, fino all'individuazione di popolane, nobili e religiose, nei dipinti collocati in mostra. Il Museo di Ocesano di Teggiano resterà aperto nei giorni di sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.